Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco il nuovo decreto legge sicurezza che non ha nulla a che vedere con i decreti sicurezza quelli di Salvini, ve li ricordate ai tempi. Allora, ci sono parecchie novità in questo decreto sicurezza. Si parla di case occupate, le proteste degli ambientalisti, le borseggiatrici. Insomma, un giornalone scrive più galera per tutti. Ecco, a settembre questa legge approderà in aula. Ci sono una serie di nuovi reati e di aggravanti. Allora, si parte per esempio da due anni di carcere agli ambientalisti che occupano le strade. Aggravanti se l'oggetto della protesta è il ponte di Messina. Quindi, se tu blocchi una strada sono due anni, ma se è per il ponte di Messina te ne do di più. Voi direte perché? Non lo so. Forse la prospettiva di cominciare i cantieri per il ponte di Messina, dove sicuramente la sinistra cercherà di combinarne di tutte di più con proteste, piazze, cortei, blocchi, allora si dice che c'è l'aggravante ponte di Messina. Dovrebbe essere questa la motivazione. Mentre, attenzione, attenzione, fino a sette anni di reclusione per chi occupa le case degli altri. Insomma, sono d'accordo. Sono d'accordo che chi blocca le strade debba comunque risponderne. Sono d'accordo che occupare le case degli altri non si fa, assolutamente. Altro che poverino a una certa età, poverino non ha lavoro, poverino ai minori, poverino, poverino e poverino. C'è chi compra le case e c'è chi le occupa. Ogni riferimento di chi abbiamo parlato in questi mesi che occupa le case eccetera eccetera è puramente casuale. Comunque andiamo avanti perché non è fornuta, non è finita. Una nuova serie di reati che rischiano di aprire le porte delle carceri già sovraffollate. Però, insomma, non è che si può dire allora non faccio le leggi perché ci sono già le carceri piene, non abbiamo i soldi per costruirne o adattarne altre, allora non giudico più nessuno così le carceri piano piano si... non ha senso neanche dire questo che trovo scritto su uno giornalone. Questo decreto legge ha già avuto il via libera della Commissione Giustizia e Affari Costituzionali e potrebbe diventare realtà poche settimane dopo che la stessa maggioranza ha approvato il decreto nordio che ha introdotto una serie di norme fortemente garantiste. Quindi da una parte con il decreto nordio norme fortemente garantiste e qui invece si parla dell'opposto. Tra i nuovi reati spicca anche quello che colpisce i gruppi di persone che occupano strade o linee ferroviarie in segno di protesta. Lì si va da sei mesi a due anni di reclusione. La norma arriva dritta dagli episodi che hanno punteggiato la cronaca degli ultimi anni quando sit-in ambientalisti hanno interrotto la circolazione stradale o ferroviaria scatenando l'ira di pendolari automobilisti. Anche se la protesta ha un carattere passivo e non aggressivo il legislatore non prende in considerazione tanto che la norma è stata ironicamente battizzata anti-Gandi dalla sinistra. E poi abbiamo la norma che viene chiamata sartoriale, cioè per fermare le proteste in vise. Per esempio chi protesta per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. Quindi non c'è un reato specifico ma c'è l'aggravante Ponte di Messina e l'aggravante TAV Torino-Lione. Ma in questo possono ricadere discariche come quella che si deve fare a Roma, autostrade, centrali elettriche, centrali nucleari per esempio. Quindi se andate a interrompere o a tentare di interrompere la realizzazione di un'opera pubblica allora c'è questa nuova legge. E poi si parla delle case occupate. Il Corriere della Sera la chiama la norma anti-salis, quella che inasprisce le pene per chi occupa immobili di proprietà altrui. Con il DDL e sicurezza, il gesto, occupare una casa e me lo chiami il gesto? Hai fatto un gesto? No, hai occupato una casa non è un gesto. Però vedo che il giornalone da cui ho preso queste notizie non sembrerebbe molto favorevole a queste norme. Quindi quello che lui chiama il giornalone il gesto di occupare una casa, quel gesto lì che è già punito, qui verrà aumentato tra i due e sette anni di reclusione. Sono previsto anche procedure accelerate per consentire al legittimo proprietario di rientrare in possesso in tempi rapidi dell'immobile. Finalmente, finalmente, finalmente lo Stato italiano si fa valere e non fa più la figura della Repubblica delle Banane. Insomma, eh dai, finalmente se occupi una casa che non è tua, fuori velocemente e reclusione. Ecco, non mi sembra che questa sia cattiveria. Andate in qualunque altro paese del mondo e diciamo che fanno ancora di peggio. Poi ci sono anche le proteste in carcere. L'aggravante al delitto di istigazione e la disobbedienza alle leggi, quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario, quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. La sanzione viene stesa anche ai CPR che accolgono gli immigrati. Anche la semplice resistenza passivi agli ordini della polizia rientrerebbe in questo ambito. e poi abbiamo le sostanze, chiamiamole così. Anche quelle leggere porteranno alla chiusura di centinaia di negozi di quel tipo che vendono e altrettante aziende che producono. E poi abbiamo contro i borseggiatori, cancella il divieto di portare in carcere le donne in gravidanza e con figli minori di un anno. Anche questo caso si tratta di una norma tagliata su un obiettivo ben preciso, colpire le borseggiatrici che spesso si fanno scudo del fatto di essere in attesa o di essere accompagnate da figli piccolissimi per evitare il carcere. Finalmente, questo, veramente sono soddisfatto che il paese non faccia sempre la figura della Repubblica delle Banane. Finalmente si cambia registro. E' questo quello che gli italiani si aspettavano da tempo. Bene, arrivederci a tutti e grazie.